E' stato attivato un protocollo per un operatore sanitario che presta servizio nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. L'uomo, residente in un paese del circondario, avrebbe accusato febbre e altri sintomi. Si trova al momento in isolamento domiciliare, in attesa del risponso del test. Il caso sospetto tra gli operatori del pronto soccorso, se venisse confermato, potrebbe aprire un fronte delicato nell'emergenza coronavirus. Come abbiamo spiegato alcuni giorni fa, le unità in servizio e reparto sono le stesse che si occupano del pretriage, dove arrivano i casi sospetti covid. Da quanto si è appreso, l'operatore in questione sarebbe entrato in contatto con un altro caso sospetto, poi risultato positivo nella clinica San Raffaele di Sulmona. Si spera a questo punto che il tampone dia esito negativo, ma la vicenda deve servire da stimolo, non tanto per una migliore gestione dell'emergenza, perché gli operatori stanno facendo i salti mortali, ma per una programmazione delle risorse umane più efficace nell'ordinario. Il tampone è stato inviato all'istituto zoprofilattico di Teramo. Il risponso è atteso per la giornata di domani. Tutti stanno facendo il tifo per l'operatore, come del resto i suoi colleghi, in prima linea per fronteggiare l'emergenza.